Ancora ben trovati e di sei feriti dunque di cui un palmese grave trasferito in elisoccorso il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale 115 alle porte di Licata a scontrarsi una Fiat Panda e una Lancia Dedra tra i feriti trasportati subito al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata con le ambulanze del 118 vi sono anche quattro extracomunitari una delle persone coinvolte nell'incidente come detto è grave si trova in prognosi riservata sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Agrigento che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente ai vigili del fuoco che hanno liberato alcuni dei feriti incastrati nelle carrozzerie e un attentato intimidatorio è stato perpetrato ieri pomeriggio contro un pensionato di Licata Giuseppe Vella 74 anni incensurato ignoti malviventi hanno appiccato il fuoco dall'interno di un casuale di campagna di proprietà dell'anziano nel quartiere Comuni Camera le fiamme hanno ucciso alcune galline e distrutto diverse attrezzature agricole sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prima circoscritto e poi spento il ruogo e i carabinieri che hanno avviato l'attività investigativa e due malviventi incappucciati armati di pistola in sella di una moto hanno sbarrato la strada alla titolare 28enne di un bar tabacchi del villaggio mosea da Agrigento che era la guida della sua automobile si sono fatti consegnare la borsa contenente 34 mila euro che la donna stava per andare a depositare in banca la rapina è stata messa a segno ieri mattina lungo la statale 115 all'uscita del quartiere commerciale agrigentino all'altezza del bivio della crocca indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile è sventato furto nelle campagne di canicattila scorsa notte in contrada a ferlazzano nel corso dei servizi di vigilanza sul territorio voluti dal dirigente del commissariato valerio saitta e coordinati dall'ispettore capo calogero bertolino una pattuglia della polizia ha rinvenuto parcheggiato all'esterno di un'abitazione rurale un camion abbandonato alla vista dei poliziotti da due o tre persone che temendo di essere arrestate si sono dileguate nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce poco prima come hanno potuto accertare gli stessi agenti di polizia il gruppo aveva svaliggiato una casa rurale di proprietà di un canicattinese di 47 anni i poliziotti hanno ritrovato ammassati nello spiazzale dell'abitazione pronti per essere caricati sul camion mobili che erano stati letteralmente smontati da due stanze dell'appartamento elettrodomestici e diverso altro materiale prelevato all'interno della casa il camion è stato sequestrato e sono in corso indagini per risalire ai proprietari un compito questo difficile in quanto il numero di telaio del mezzo pesante è illegibile e la targa posta sul retro risulta essere di un'autovettura demolita diverso tempo fa si era fatto versare 65 euro su di una posta pay da un uomo di naro per l'acquisto di una playstation che però non era stata mai inviata all'acquirente gli agenti del commissariato di polizia di canicattì hanno individuato un giovane di 29 anni di reggio calabria l'indagato dovrà rispondere di truffa e frode informatica e nonostante la richiesta di archiviazione la vicenda che ha come sfortunato protagonista un bambino di canicattì che oggi ha sei anni nato in stato vegetativo nel 2005 sembra destinata ad andare avanti in un primo momento infatti il sostituto procuratore lucia brescia aveva chiesto l'archiviazione per i 23 indagati tra personale medico e paramedico degli ospedali di canicattì agrigento accusati di avere responsabilità nei problemi verificati sia al momento del parto il legale della famiglia l'avvocato giuseppe zucchetto si è immediatamente opposto al decreto di archiviazione la famiglia del bambino ha continuato a sostenere che successivamente al ricovero nell'ospedale di troina si è scoperto che lo stesso aveva subito lesioni e danni al momento della gestazione e del parto l'avvocato zucchetto si è opposto all'archiviazione ottenendo dal GIP il rinvio all'udienza camerale all'udienza il giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di archiviazione per difetto originario di procedibilità la querela in pratica doveva essere presentata entro e non oltre tre mesi il GIP nel decreto non condivide le argomentazioni del PM e condivide invece l'atto di opposizione all'archiviazione delle parti offese che adesso potranno richiedere il risarcimento del danno in sede civile che ha scadenza in dieci anni e per l'operazione Pride del 2008 e l'inchiesta strike dello scorso mese di ottobre doveva recarsi ogni giorno in commissariato per via dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al quale era sottoposto anche questa prescrizione è saltata oggi per Ivan Alaimo canicattinese di 25 anni grazie all'accoglimento da parte di due giudici per le indagini preliminari di Agrigento delle relative istanze presentate dagli avvocati della difesa Geroli Calzi e Luigi Reale torna libero l'imprenditore agrigentino gerlando tutto lo mondo di 74 anni l'unico indagato dell'inchiesta self-service ancora agli arresti domiciliari lo ha disposto il GIP del Tribunale di Agrigento Alberto Davico accogliendo la richiesta del difensore l'avvocato Salvatore Pennica l'imprenditore è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di Agrigento tutto lo mondo titolare di un'azienda di costruzioni è accusato di aver pagato tangente al funzionario dell'ufficio tecnico comunale di Agrigento Luigi Zicari in cambio del rilascio di licenze edilizie è stata emessa la sentenza d'appello al processo Scorpione dall'omonimo blitz scattato a Gela alla fine del 2009 sul banco degli imputati quattro gelesi che hanno optato per il rito abbreviato tre condanne confermate ed un'altra riformata è quanto sancito dalla corte d'appello di Caltanissetta al processo Scorpione che si è celebrato a carico di quattro esponenti di Cosa Nostra Gela accusati di mafia ed estorsioni anche i giudici di secondo grado hanno riconosciuto gli imputati colpevoli di aver preteso il pizzo per 11 anni degli imprenditori edili locali che negli anni scorsi hanno realizzato la cittadella ossia il nuovo complesso residenziale tra le contrate Marchitello e Casciana Catania e le tangenti i quattro le avrebbero intascate in varie forme dalla più classica messa in regola con l'esborso di denaro per le feste comandate all'imposizione della guardiania attività per le quali la corte d'appello accogliendo le richieste formulate dalla procura generale ha confermato la condanna a sei anni e mezzo di carcere all'emergente di Cosa Nostra Salvatore Burgio perché è riconosciuto colpevole di aver intascato mazzette dagli imprenditori e la conferma della condanna a sei anni e otto mesi a Giuseppe Alfieri un noto esponente di Cosa Nostra e a sei anni e venti giorni per suo figlio Nunzio è stata riformata la sentenza di condanna solo per Giuseppe Claudio Alfieri, nipote di Giuseppe la corte d'appello in parziale accoglimento dei motivi d'appello lo ha condannato a cinque anni e quattro mesi a fronte della condanna a sei anni e venti giorni che gli era stata erogata dal gruppo di Caltanissetta e che in primo grado lo aveva giudicato con il rito abbreviato i tre Alfieri sono stati riconosciuti colpevoli di aver imposto il pizzo agli imprenditori sotto forma di guardiania prima che la corte si ritirasse in camera di consiglio per decretare il verdetto è stato sentito il neocolaboratore di giustizia Emanuele Cascino rispondendo alle domande della procura generale Cascino nel riferire di essere stato un uomo di Cosa Nostra ha raccontato di aver fatto parte del gruppo malavitoso capeggiato dagli Emanuele a partire dal 1999 e di essere transitato nel 2002 nel gruppo malavitoso di Peppa Alfieri che a dire del neocolaborante era più forte Cascino che non si è voluto spingere più di tanto nei suoi racconti perché ha sottolineato ci sono indagini in corso, ha raccontato che il gruppo di Alfieri era dedito ai furti ad altre attività criminali e che tra gli associati era diffusa la pratica del cavallo di ritorno gli imprenditori che hanno realizzato il nuovo complesso residenziale avrebbero subito diversi furti nei loro cantieri ad opera degli Alfieri i quali a dire del neocolaborante avrebbero restituito la refurtiva dietro pagamento di denaro poi avrebbero imposto anche il servizio di guardiania Nel processo d'appello per l'uccisione dell'imprenditore di Serra di Falco Luigi Salvo nel corso dell'ultima udienza la parte civile ha chiesto espressamente il reggetto dell'appello e la conferma della condanna che in primo grado i giudici del Tribunale di Evigento avevano inflitto ai due favaresi considerati gli autori dell'efferato omicidio e cioè Rosario Stuto condannato a 30 anni e Michele Bongiorno condannato a 15 anni la difesa di Bongiorno non ha ritenuto di doversi avvalere della testimonianza di un giovane favarese ha ritenuto una sorta di super testimone l'avvocato Giuseppe Barba ha invece sostenuto che quella mattina del giugno del 2009 il proprio assistito non avrebbe partecipato all'omicidio di Luigi Salvo il legale ha ribadito la sua tesi secondo la quale quella mattina Bongiorno non avrebbe saputo che Rosario Stuto aveva intenzione di uccidere Luigi Salvo e che almeno secondo quanto da lui affermato al suo assistito gli era sembrato che l'intenzione di Stuto volesse solo essere quella di dare una bella lezione alla vittima ma non certo di ucciderla una tesi in base alla quale l'avvocato Barba ha chiesto ai giudici la riqualificazione del reato per il suo assistito da concorso in omicidio a concorso anomalo il processo riprenderà il prossimo 14 febbraio mentre martedì 21 febbraio è prevista la sentenza i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale della Sicilia hanno sequestrato 867 fossili provenienti da varie località siciliane trovati nell'abitazione di un uomo di sciacca che li ha raccolti per diversi anni il collezionista è stato denunciato per il lecito possesso di beni culturali appartenenti allo Stato i reperti vanno dall'era mesozoica alla quaternaria i reperti paleontologici come archeologici appartengono allo Stato chiunque li trovi ha l'obbligo di fare denuncia entro 24 ore al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza i fossili saranno consegnati al museo geologico gemellaro di Palermo il questore di Agvigento Giuseppe Bisogno ha notificato a 5 empedoclini altrettanti ammonimenti nel contesto di un'indagine per stalking avviata dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle dopo la denuncia di una vedova si tratta della stessa donna che un anno fa balzò agli onori della cronaca per essersi barricata in casa allo scopo di evitare che i familiari di suo marito defunto potessero vedere la salma dell'uomo scelta dettata dai pessimi rapporti con i familiari del congiunto e proprio alcuni di questi parenti pare che perseguitassero la donna con minacce, angherie e vessazioni il tutto secondo gli accertamenti della polizia per motivi economici a Favara la Guardia di Finanza ha scoperto un centro di raccolta delle scommesse all'interno di un locale adibito a sala giochi a internet point sono stati sequestrati i palinzesti degli eventi sui quali era possibile scommettere tre personal computer, una stampante e del denaro contante il titolare dell'esercizio era privo delle autorizzazioni ed è stato quindi denunciato a piede libero per esercizio abusivo di scommesse sportive Totori Ina e, lo dicono i periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta che la scorsa settimana hanno visitato l'ex capo di Cosa Nostra i medici dovevano stabilire le condizioni psichiche di Riina impossibilitato, secondo la difesa, a stare in giudizio i pediatrici, anche se affetto da alcune patologie che però non gli impediscono di poter partecipare ai processi in cui è imputato Riina, insieme al boss Giuseppe Madonia di Vallelunga Pratameno, al capo mafia di Enna Gaetano Leonardo e ad altri due esponenti di Cosa Nostra Giancomino Sollami di Villarosa e Pietro Pernagallo di Granmichele sono chiamati a rispondere dell'omicidio del politico ennese dell'ADC Giovanni Mungiovino ucciso il 9 agosto dell'83 nei pressi di Enna il processo riprende oggi mentre la posizione di Riina che in un primo tempo era stata stralciata sarà ora riunificata Cambiamo argomento sit-in simbolico del movimento dei Forconi nell'aula consigliare del comune di Camastra gli agricoltori continuano a chiedere così l'attenzione della politica La mobilitazione dei Forconi è arrivata anche a Camastra ed esattamente al comune di Camastra nuove forme di agitazione cosa produrranno? Speriamo bene anche perché c'è qualcosa nell'aria che non va noi stiamo facendo queste manifestazioni pacifiche per sensibilizzare le persone al nostro problema perché dopo quella grande manifestazione perché è stata una grande manifestazione sembra che tutto si sia addormentato invece non è così e stiamo adottando queste chiamiamole proteste per sensibilizzarle alle persone perché abbiamo bisogno e anche perché credetemi non è solo per gli agricoltori questa storia è un po' per tutti e siete tutti a casa nessuno ci crede siete tutti a casa invece dovete scendere in piazza e protestare insieme a noi L'occupazione simbolica del comune di Camastra avete ricevuto solidarietà da qualcuno? Ancora è presto abbiamo iniziato questa mattina ma spero di averla questa sera Praticamente dove sono i sindaci gli assessori i consiglieri comunali a manifestare se vengono a prendere solamente voti e poi loro dove sono? Boh non si sa tutti i cittadini hanno dei problemi qua Naro Camastra Palma Canicattì viviamo tutti di agricoltura la maggior parte quindi si sa che l'economia è basata soprattutto sull'agricoltura loro forse avranno qualche stipendio o qualche cosa non gliene frega a nessuno niente Mondi in questi giorni ha detto che il posto fisso non va bene l'agricoltura non va bene i posti nelle aziende non vanno bene che cos'è che deve andare bene per lui pagare solamente i soldi alle banche basta non lo so io rimango di stucco per quello che dicono per quello che fanno c'è per esempio la strada che fa Palma Camastra che è distrutta e da anni e nessuno provvede a questa cosa cioè io non so come prendono lo stipendio non si vergognano anche loro prendersi lo stipendio fanno esperti contro esperti ma i nostri soldi questi che noi stiamo pagando tutte queste tasse dove vanno a finire loro ci stanno facendo pagare le tangenti e il pizzo non ci fanno pagare le tasse ci fanno pagare solamente il pizzo come faceva la mafia con le persone normali così fanno loro ora con noi completamente uguale nella maniera più assoluta sono 26 parlamentari regionali dell'opposizione a Lars firmatari della mozione di sfiducia al governatore Raffaele Lombardo il testo è stato presentato dai capigruppo dei tre partiti firmatari Innocenzo Leontini del PDL Rudy Maira del PID e Titti Bufardeci di Grande Sud lo stesso Leontini ha anche annunciato che l'Udc è pronta a votare la mozione in aula nonostante abbia deciso di non firmarla per defenestrare Lombardo occorrono comunque 46 voti PDL PID e Grande Sud hanno firmato una mozione di sfiducia al governatore della Sicilia Raffaele Lombardo e alla sua giunta il documento è stato depositato ieri all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana poi spetterà la conferenza dei capigruppo calendarizzarlo per l'aula la mozione è firmata da 26 parlamentari dell'opposizione PDL PID e Grande Sud giudicano fallimentare l'azione del governo su tanti temi dalla formazione professionale alla spesa dei fondi comunitari dalla gestione di alcune società partecipate come Sicilia e Servizi IRFIS e AST il governatore Lombardo e il suo attuale governo sono assolutamente inadeguati ad affrontare e avviare a soluzione i problemi dell'isola si legge nella mozione il prolungarsi per ancora molti mesi di maggioranza e governi ribaltonisti e trasformisti rissosi e incapaci di un disegno strategico e di efficacia operativa hanno aggravato la crisi dell'istituto autonomistico causando un sempre maggiore distacco del popolo siciliano per l'opposizione il susseguirsi dai governi è determinato anche uno scombussolamento della macchina amministrativa e dell'apparato burocratico i dirigenti sono stati sostituiti a ogni pie spinto e la durata media della loro permanenza alla direzione di importantissimi dipartimenti è stata di sei mesi e che come conseguenza ha discontinuità ritardi perdita di finanziamenti scelte arbitrarie il capogruppo del PID Allars Rudy Mayra ha definito la mozione come una sorta di libro bianco di estrema rilevanza al di là dell'esito che avrà in assemblea regionale anche se non potranno fare ricorso al voto segreto che in alcuni casi ha fatto emergere divergenza nella maggioranza poiché il regolamento dell'Arse prevede l'appello nominale PDL PID Grande Sud contano sull'Udc passato all'opposizione e soprattutto sui delusi del PD per far passare la mozione di sfiducia a Lombardo e al suo governo in base all'articolo 10 dello statuto la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione può essere approvata solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti dopodiché si proceda entro i successivi tre mesi alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea del Presidente secondo Lombardo che abbiano presentato la mozione dopo l'aggressività mostrata l'altra sera in aula dimostra che si tratta di gente che non ha argomenti si scaraventa sul governo tutto il rancore l'odio il fiele di cui è capace con un disprezzo una cattiveria degna di peggiore causa perché a queste persone abbiamo tolto a detto il giocattolo fatto di sperpero di denaro pubblico dello sfascio della Regione e della Sicilia di assunzioni degli amici Silvio Cuffaro terminato il suo mandato non si ricandiderà a sindaco di Raffadali il governatore Raffaele Lombardo ha infatti pronto per lui un incarico alla Regione grazie ad una delibera del 9 gennaio scorso Cuffaro Junior coprirà per tre anni l'incarico di vice direttore generale per l'agenzia per l'impiego struttura che dovrebbe agevolare l'inserimento al mondo del lavoro e svolgere azioni di orientamento professionale a quanto pare si tratterebbe di una riconferma di un rinnovo dopo una scadenza perché in possesso di professionalità adeguate anche se in questi anni Lombardo ha spesso parlato di tagli agli incarichi e ai costi della politica Silvio Cuffaro percepirà 116 mila euro lordi l'anno e quasi ecco l'altra faccia della medaglia quasi un siciliano su due percepisce una pensione gli assegni erogati ogni anno dagli istituti di previdenza sono poco più di 2,35 milioni a fronte di una popolazione complessiva nella regione di 5 milioni di abitanti quasi il 70% percepisce un assegno imperiore ai 1000 euro è uno dei dati contenuti nel rapporto congiunturale della fondazione RESS lo studio mette in luce un pessimo andamento dell'economia siciliana anche rispetto a quella nazionale in questo caso sul prodotto terno lordo per il siciliano il 2012 sarà un anno nero con il dato che si sta a meno 2,1% rispetto al 2011 è il vertice al quale tutti i partiti guardano con interesse per agire di conseguenza quello che da settimane avviene a Campobello di Licata tra il Partito Democratico il Movimento per le Autonomie e la lista civica Campobello nel cuore in vista delle elezioni amministrative e finora l'unico nome ufficiale è quello dell'ex consigliere comunale del PD Giovanni Picone ma nell'ultimo incontro di ieri sera anche gli altri due partiti hanno schierato i rispettivi candidati a sindaco sui loro nomi però permane un silenzio ermetico lunedì sera sarà il giorno della sintesi con la decisione di continuare l'alleanza forte della firma alla mozione di sfiducia al sindaco Michele Termini con un solo nome martedì dunque potrebbe essere anche un San Valentino politico quello che si potrebbe vivere a Campobello delicata primi timidi incontri anche tra il popolo della libertà e l'Udc partito quest'ultimo che non sembrerebbe unito nella ricandidatura del sindaco sfiduciato Il presidente del consiglio comunale indossa la fascia tricolore scoppia la polemica a Ravanusa secondo Salvatore Pennica capogruppo del PDL all'opposizione il gesto di Salvatore Grifasi denota l'arroganza del potere di una persona che è data da molti come probabile candidato a sindaco alle elezioni del 2013 è diventata la fascia della discordia quella tricolore a Ravanusa indossata dal presidente del consiglio comunale durante la marcia antimafia di Palma di Montechiaro lo scorso fine settimana per il consigliere del PDL Salvatore Pennica l'altornamento in assenza del sindaco Armando Savarino spettava in quell'occasione al vice sindaco o a un assessore il vice di Savarino però dopo le dimissioni di Amedeo Mosa è stato nominato solo due giorni fa ed è Angelo Monterosso ma dal canto suo il presidente Salvatore Grifasi si tacciando la vicenda come estremamente banale giura di aver visto almeno sei suoi colleghi fasciati per così dire al sitinne per l'agricoltura che si tenne a Roma nel 2009 Grifasi e Pennica sono amici di infanzia e addirittura cugini acquisiti ma non si risparmiano frecciate in questo duello dialettico il capogruppo del PDL parla di arroganza del potere Grifasi rispedisce al mittente le accuse perché c'è chi per quella fascia ha dimenticato dice amici e parenti Pennica però chiede ai suoi colleghi e agli amministratori comunali un formale atto di censura nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale per fargli capire una volta e per tutte che il palazzo municipale non è casa sua è un bistrattato palazzo che pur tuttavia ha delle regole ben precise che sono da rispettare e che non possono in nessun modo essere modificate Grifasi che alle ultime elezioni ha riportato il maggior numero di preferenze ha però deciso che da allora di dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo istituzionale mettendosi in aspettativa dalla sua professione essere disponibili impegnati e prestare ascolto ai cittadini afferma Grifasi è il vero motivo che dà fastidio a qualcuno Il Comitato Civico Licatese per lo sviluppo ha inviato una mail al Sindaco Angelo Gracie contro quelle che definisce la scorrettezza e il comportamento antidemocratico del primo cittadino Il Comitato chiede l'istituzione della Carta dei Servizi la pubblicazione online delle analisi sulle acque e la funzionalità del server hosting del Comune Una precedente lettera sulla Carta dei Servizi era stata inviata lo scorso mese di luglio dal commissario Giuseppe Terranova in sostituzione del Consiglio Comunale Anche il coordinatore del circo del Partito Democratico di Delia Antonio Di Caro ai consiglieri comunali Calogero Loporto e Claudia Montana salutano con soddisfazione l'aumento della percentuale per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti in Paese e chiedono all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di una riduzione del prelievo fiscale nei confronti dei cittadini occorre secondo il PD una rideterminazione della Tarsu in considerazione che l'ultimo adeguamento operato dalla Giunta Municipale in condizioni diverse e quando il conferimento in discarica aveva un costo elevatissimo ha visto un aumento della tariffa del 50% Passiamo ad altro ricorre oggi il giorno del ricordo istituito nel 2004 in memoria dei martiri delle foibe e dell'esodo dei profughi Giuliani Striani e Dalmati una pagina nera della storia del Novecento per molto tempo sottaciuta che viene portata a conoscenza soprattutto alle giovani generazioni come è accaduto questa mattina a Canicatti con l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città l'amministrazione comunale di Canicatti quest'oggi vuole rendere il giusto tributo alla giornata del ricordo con questa manifestazione che vede protagonisti vedrà protagonisti soprattutto gli studenti della scuola cittadina sì oggi appunto 10 febbraio per ricordare quello che successe tantissimi anni fa quindi per ricordare le foibe abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione dove sono gli alunni che salgono diciamo in cattedra quindi i relatori di questa manifestazione sono appunto gli alunni delle scuole medie dell'istituto Verga Pirandello e Gaggitano che appunto ci faranno ci ricorderanno quello che è successo in quel periodo e le testimonianze che comunque ci sono stati dei suoi provvissuti e per finire ci sarà il tocco del professore Oggello che appunto darà la sua testimonianza per quanto riguarda i canicattinesi che appunto sono stati massacrati anche nelle foibe purtroppo Canicattia ha dato un suo contributo anche alla strage delle foibe come l'ha dato peraltro anche a tutti nelle foibe sono Antonio Di Gioia e Angelo Gardisi erano due appartenenti alle forze dell'ordine di loro non ci si è più notizie dal 1944 poi furono arrestati a quanto pare di Antonio Di Gioia l'ultima notizia si riferisce a una sua presenza a Draga di Sant'Elia nel territorio di Trieste e mentre Angelo Carlisi scombarve a un certo punto fu portato in Jugoslavia dai partigiani e Canicattia giustamente ha ricordato ultimamente questi propri concittadini è stata intitolata una strada ad Antonio Di Gioia una ad Angelo Carlisi e una ai martiri delle foibe e questo mi pare un atto doveroso di riconoscimento perché questa è una pagina di storia molto triste una pagina di storia di cui nessuno ha parlato fino a qualche anno fa i comunisti perché erano responsabili di quello che è accaduto e dobbiamo dire anche molti esponenti di governi democratici e anche democratici cristiani i quali per avvalorare la posizione presunta neutrale di Tito preferivano non parlare di questo argomento oggi finalmente si è squarciato questo velo e quindi è giusto dare il doveroso tributo di omaggio anche ahimè postumo ai caduti delle foibe e anche ai caduti di posto proprio di stamattina una bella notizia il Presidente della Repubblica Napolitano a maggio si recherà a Udine a rendere omaggio ai caduti di Porsos tra cui appunto ci sono due nostri due nostri concittadini Giuseppe Urso e Angelo Augello il quale ahimè sia su Facebook su Wikipedia sia anche nella lapide che c'è a Udine viene chiamato Angelo Augelli e invece Angelo Augello dovremmo chiedere anche come comune di rettificare questa iscrizione e sarà presente anche il Circolo Paolo Borsellino di Canicattì domani alla manifestazione organizzata dal coordinamento regionale di Giovane Italia in ricordo e memoria delle foibe che si terrà a Caltanissetta alle ore 17 noi giovani siciliani di destra ha dichiarato il Presidente del Circolo del PDL Gerodrago vogliamo ricordare le decine di migliaia di innocenti che per non rinnegare la propria italianità furono massacrati e gettati vivi nelle cavità carsiche del confine orientale per mano delle milizie comuniste di Tito adesso opera ed operetta in scena questa sera al Teatro Sociale di Canicattì lo spettacolo che rientra nel cartellone delle iniziative della stagione teatrale 2011-2012 organizzato dall'Associazione Musicamente ad esibirsi sarà il tenore canicattinese Leonardo Alaimo L'Associazione Musicamente questa sera si ripresenta al pubblico canicattinese con un nuovo spettacolo inserito nella stagione teatrale Sì abbiamo un po' fatto questo progetto assieme all'assessore Cecilia Acquisto riguardo a dei concerti da svolgere durante la stagione teatrale e concertistica uno l'abbiamo già fatto un mesetto fa e questa sera è un grande evento per me essendo il presidente dell'associazione perché è pure pianista quindi diciamo suono pure suono sempre sarò l'accompagnatore pianista di tre grandi talenti straordinari artisti di fama mondiale Leonardo Alaimo mio caro amico Letizia Colaianni e Floriana Sicari per un concerto che riguarderà pezzi celebri dall'opera all'operetta questa sera sarò affiancato da due soprani Letizia Colaianni e Floriana Sicari due grandissimi talenti come diceva il presidente che si occuperanno sia di opera che di operetta sarà uno spettacolo molto vario ci sarà anche la voce diciamo esterna che presenterà i pezzi con dei brevi cenni storici che sarà Serena Bonzangue e cercheremo appunto di allietare questa serata così fredda riscaldandovi con la musica quindi invito la cittadinanza a partecipare e così diamo la possibilità anche alle persone di poter entrare nel bretta e domani a Canicattì ci sarà anche il giudice del tribunale di Caltanissetta Giovanni Battista Tona per partecipare al convegno su fede e diritto in Rosario Olivatino organizzato dall'associazione Amici del giudice Rosario Angelo Olivatino per l'occasione Tona illustrerà anche le motivazioni che lo hanno convinto insieme a Salvatore Cardinale attuale presidente della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta di riunire nel libro non di pochi ma di tanti riflessioni intorno alla giustizia le due relazioni di Rosario Olivatino su temi ancora oggi di particolare attualità come il ruolo tra fede e diritto Il proprio direttivo e per l'occasione organizza anche un incontro che vedrà la partecipazione di un'illustre personalità del mondo giuridico Sì giorno 11 al Palazzo Stella grazie all'amministrazione comunale che c'è dal patrocino quindi risparmiamo qualche soldo apriamo praticamente l'anno sociale dell'associazione noi abbiamo da rinnovare il direttivo perché dopo tre anni decadiamo quindi noi ci presentiamo di missionare speriamo tanto che entrino nuove forze nel direttivo soprattutto giovani perché siamo di una certa età quindi vorremmo cedere volentieri il passo anche ai giovani e con l'occasione poi a seguire quindi l'incontro l'avremo giorno 11 alle 16 per il rinnovo del direttivo e alle 17 avremo un incontro con un illustre personaggio come bene ha detto lei che è il giudice Giovanni Battista Tona e come hanno scritto praticamente no hanno scritto hanno messo su un libretto come associazione magistrate sezione di Caltanestetta le due relazioni le uniche due relazioni del rosario fede e diritto è il ruolo del giudice nella società che cambia questo praticamente è il librettino che loro hanno fatto e quindi in quell'occasione sicuramente il giudice parlerà anche di questo libretto e quindi noi speriamo che le persone che ci ascoltano che ascoltano la vostra emettente vengano numerose noi non abbiamo preclusione cioè soci non soci la riunione è aperta a tutti poi chi vuole partecipare partecipa chi non vuole non potremmo certo sicuramente obbligarle la vostra associazione è impegnata veramente costantemente nel diffondere nel promuovere il ricordo del giudice canicattinesi sì noi abbiamo come idea fondamentale questa anche perché alla fine del libretto qui dove si parla praticamente delle due associazioni tecnopolis che è di impegno culturale e sociale diciamo l'associazione amici del giudice elevatino noi come impegno abbiamo quello di promuovere la legalità di non solo la legalità ma come associazione elevatina appunto di promuovere la memoria portare avanti sempre la memoria di rosario è stata presentata ieri dall'associazione new revolution alla commissione straordinaria del comune di castrofilippo la squadra di calcio real castro che sordirà domani alle ore 15 sui campetti la pinetina di agrigento i commissari hanno offerto e consegnato le maglie ai giocatori alla presenza del presidente Tonino Lobrutto del vicepresidente Savio Intorre e dell'allenatore Alessio Intorre augurando alla squadra e alla società di raccogliere i frutti dei sacrifici che svolgeranno lungo la stagione calcistica 2011-2012 il nome della formazione ricalca una realtà sportiva del passato castrofilippese adesso le previsioni meteo in provincia di Grigento domani nubi sparse alternate a schiarite con possibili deboli pioggia e in Sicilia le temperature minime vanno dai meno due gradi di Enna ai sette gradi di Catania e Trapani le massime oscilleranno dai cinque gradi di Enna agli undici di Agrigento Messina e Catania e con il meteo è tutto arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.